Il Ministero mi ha mandato i soldi per poter provvedere io scavalcando il Comune di Palermo, per cui entro il 30 settembre pensate che sicuramente i bambini avranno la loro scuola. Adesso se volete visitarla, potete accomodarvi. Noi l'abbiamo ripulita tutta perché lunedì vogliamo farla trovare sistemata ai tecnici del Comune che erano rimasti impressionati dallo stagio iniziale.